L'Associazione Genitori e Figli per l'Inclusione, insieme a Confartigianato Fano e Marotta e Linkout, la start-up che crea luoghi accoglienti per ragazzi con autismo, hanno ideato un tirocinio formativo per implementare le competenze lavorative direttamente sul campo a tre ragazzi con caratteristiche diverse in tre spiagge tra Fano e Marotta. Francesca Busca, come nasce e cosa consiste questo progetto? Il progetto è denominato Bagno di Sole, è un progetto che ha come base determinante la formazione perché gli operatori di spiaggia in questo caso, in quanto è sostenuto e accolto dal Confartigianato Gestioni di Spiaggia, ha dato la disponibilità per permettere ai ragazzi con disabilità sensoriale e non, quindi anche con altre disabilità, di dare l'opportunità quindi di implementare le competenze che possono essere poi trasversalmente utilizzate in un tirocinio di inclusione sociale. Quindi è stata fatta una formazione mirata da parte di un'azienda che si chiama Linkout dove l'ipersonale degli stabilimenti balneari è stato formato affinché potessero accogliere nel modo giusto la persona che ha una condizione di disabilità. Questo progetto è iniziato a seguito di un contatto avuto con Bagni 27 di Rimini dove ho conosciuto Enrico Maria Fantaguzzi che è l'amministratore delegato della Linkout che da tantissimi anni forma il personale di tantissime aziende a livello nazionale. L'incontro è stato veicolato da Mauro Mandolini che è il referente della Confartigianato Bagnini e appunto questa rete di incontri ha permesso di andare a definire una proposta progettuale da parte delle associazioni. Quindi noi come AGFI abbiamo praticamente aderito e coinvolto in questo passaggio l'associazione Onfalos perché riteniamo che solo lavorando in rete si arriva agli obiettivi. Che cosa hanno fatto i ragazzi in questi mesi? I ragazzi sono tre ragazzi, due ragazzi con lo spettro autistico, un ragazzo con la sindrome di Down, Trisomia 21, a questi ragazzi sono state proposte delle mansioni di organizzazione dello spazio colazione piuttosto dello spazio spiaggia. Questo perché? Perché queste richieste diversificate che poi verranno implementate hanno l'obiettivo di riconoscere i loro tempi di lavoro, quindi la memoria di lavoro, la capacità del rispetto della consegna, quindi tutti quei prerequisiti determinanti per attivare un tirocinio di inclusione sociale. E come si sono trovati? Allora, al momento i ragazzi hanno iniziato i primi di luglio, però c'è stato subito un riscontro molto positivo, si sono trovati bene loro e si sono trovati bene chi li sta accogliendo. Infine, quali sono state le spiagge coinvolte in questo progetto? Le spiagge coinvolte in questo momento sono tre, sono Arzilla Beach, la spiaggia dell'hotel Imperial e Sassi di sotto di Marotta.